Uno dei sistemi più efficaci per difendere l'orto, il giardino, il frutteto dalle infestazioni di parassiti, senza l'uso di insetticidi, è l'utilizzo delle trappole alimentari TAPTRAP e VASOTRAP. Completamente ecologiche, TAPTRAP e VASOTRAP sfruttano un'antica tecnica contadina, riciclando bottiglie di plastica e vasetti in vetro, come contenitori di un'esca attrattiva di tipo alimentare, facile da autoprodurre in casa. Le trappole attraggono solo il tipo di insetto che gradisce l'esca preparata, una tecnica che le rende altamente selettive e ideali per un trappolaggio di massa di vari tipi di insetti, senza l'uso di prodotti chimici. Con le trappole ecologiche ad esca alimentare, è possibile catturare vespe, calabroni, mosche comuni, mosche della frutta, tignole, carpocapsa e vari altri tipi di lepidotteri, senza costituire una minaccia per gli insetti impollinatori come le api e i bombi, i quali non hanno nessun interesse alimentare verso questo tipo di sostanze attrattive. Tapp trap e vaso trap sono molto semplici da usare. L'esca viene inserita nel contenitore al quale si applica la trappola al posto del suo tappo originale. Le esche consigliate per ogni tipologia di insetto dannoso sono tutte realizzabili con alimenti facili da reperire e tutte sperimentate da coloro che usano questa tecnica da molti anni. Le trappole vengono appese in mezzo al verde e ben esposte al sole. Sono ideali in agricoltura così come in ambiti civili, per frutteti, orti, giardini, case di campagna, campeggi e piscine. La capacità di cattura di massa continua della trappola permette di ridurre o evitare del tutto l'uso di insetticidi sin dalla primavera. Le trappole possono intercettare i primi esemplari volanti della stagione. Una cattura molto importante se si pensa che eliminare gli esemplari fondatori di nuove colonie contribuirà a ridurre la diffusione della specie dannosa. Taptrap e vasotrap sono fatti di materiale plastico molto resistente e per questo riutilizzabili per molte stagioni.